Tori se coci non mi garba io però Io non mi ricordo un comando però chi se ne fa Tu i X e picchiati Denver, Denver, DdeD Denver Denver, Mek, Mek Mek E come smash bros è la versione un po' E' la versione buliccia dei picchiaduro Ma Calmiamoci, calmiamoci Rivedo agitati Qui qualcuno si deve prendere una mancetta nelle chiappe Una? Lancetta nelle chiappe Non intendo quelle dell'orologio, ma intendo questa lancetta Io dove sono in tutto ciò? Ah ok, sono trovato Cosa cazzo fa il mio? L'arco fa cagare No, poi in realtà scoprirò che è fortissimo Però Sì, non è male l'arco Aia Aspetta, aspetta, aspetta E la madonna, cambiamoci Aia, aia Grande oscia Ma quindi sta qua sull'arma distante Ma l'arco come lo uso In tutto ciò Cosa? Ma l'arco è un'arma a contatto Non è un'arma a distanza Non è entrambe più o meno Non va Dipende da che special usi Come si usano già le special? C'è la special Ah, c'è anche il basso La mossa potente Giusto La grande botta La grande botta C'era una volta Faglierla sentire Fagli sentire la grande botta Non è mancato di niente la mina Ma di niente Io ci ho andato sopra Siete solo degli amateur Fate come me Salite sulle mine L'ho schivata io Tecnicamente Va bene Infatti Se volete fare le cose da professionisti Saliteci sopra Nooo Ciao Forse no Sì ciao Genio del male Ma tu Donri quale sei il nano? Sì Con lo brutto brutto Adesso Lo faccio Lo fatta Era il mio scambetto Posto il mio scopo Devo dire che mi fanno schifo le armi di Tiana Ma stai più tanto Sì a me Anche l'arco Minchia come ho fatto In tutto ciò Sai che sei imbalzato su di me E che ti ho dato una miscela A me Koji con la spada Garba tantissimo Oh no 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 Ciao Non ho fatto cadere dal nulla L'hai fatto cadere Si lanciavano le Le armi? Ho scoperto Ho scoperto Rb Rb Notte José 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 Come vuoi che sarai chiamato Dimmi José Mi dispiacerebbe dire Morriglio Mi dispiacerebbe dire Non mi ho sbagliato Quindi Dimmi qual è la L'accezione giusta Accezione Queste cose che non In realtà Sarebbe pronuncia Ma ci siamo quasi Ce l'ho tirato con l'arco Non cadrai mai più Non cadrai mai più No Ah Z Ho messo 4 persone massimo Ok perfetto Mai aumenta Però entra Mario Così No 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 Entra non possono entrare anche tutti Fate quello E che giocare alla volta Posso fare 4 persone Con questo stronzone Però possono entrare anche in 50 No si può giocare anche in 8 Sì lo so Ok Mezzetto con i giochi Al mondo Ammazzate la zoccoletta Ciao Oh merda L'arco Cioè l'arco ha quel tiro in diagonale verso il pavimento che non è male Carino Sì Però basta L'unica cosa che mi piace di questa arma Diciamo così Cos'era quella Aspetta se stai fermo e non mi attacchi la faccio di cazzo Giù Y Non vedi fa questo A me fa questo Onesti Che fa caccare Oh La madonna Che cicciolata What a cicciolate No ma l'arco E' onestissima Che mi sono completamente dimenticato di usare Oh La bomba paranoia Sono dimenticato completamente di usare la schivata In questa mano In questa mano Mi fa cagare Koji Io sarò banale Io Gigi non l'ho detto perché mi state sul culo Però Non so neanche come si fa tra l'altro Quindi Potrei dire per mantenere il mio Il mio status Che non l'ho fatto perché vi odio tutti Quindi andate a fare in culo Ma in realtà è perché non Non ho fatto Non sapevo come si faceva Ah cambiamo modalità Facciamo un po' Beach brawl No fai ancora una in cui ci si picchia Per prendere un attimo Ah Classico Facciamo dopo quelle strane dai Classico Ma sì almeno ci prestiamo un attimo in tanti Che fa un po' di bordello a caso Che fa bordello Minga Minga Scuso che sono il vostro preferito Squad up Squad up Squad up Guys Noi Mi fa ridere il modo in cui lo dice Dan Gisling Squad up boys Squad up boys Bec ma chi tu Squad up Ma io offre molto Ma un cazzetto Ma un cazzetto Mi fa ridere Dan Gisling Quando dice yes Non so perché Non so perché Che fa Che fa Che fa Classico Ma no Che fa Gold Classi Serrano In realtà In realtà l'avevo comprato Serrano Quindi potrei anche prenderlo In teoria Infatti io ho comprato Serrano Io ho comprato Atari Che cazzo sono io Io Chiero Ah ecco Ok Perfetto Vedo che mi piace Come giocare di nuovo a Duck Game Non ci credo Mi sono Ragazzi Non picchiatemi Che mi sono già suicidato Nel casino io lancio una bomba Poi quello che succede Succede Lasciatemi in pace Su questa piattaforma È solo mia Una cosa vi chiedo Via Devo prendere un'arma Fanculo Poi fate quel cazzo Che vi pare Vabbè Prendete l'arma Andatevene via Ok Roland Abbiamo un pantone Minchia Arrivo Arrivo Io dove sono Ma sei scema Non saltavo più Chi sei tu Norris Scusa Sono quella che stavi lanciando Nel senso che stavi trapassando Con una lancia Intendo dire Ma un corco Chi è Koji Che ha schimato la mia carica Barbida Ok 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 Ragazzi Scuodappiamoci contro gli utenti Chi sono gli utenti Mario e Rob Che non so chi sia Poi semmai Non mi frega Bobbar Quella blu E Bobbar Quella blu Uh preso Non so come Mancata Presa Sono con voi utenti Io Finite di colpirmi al volo Io sono Un uomo del popolo La differenza vostra Sono il pover Scobarda Quello biondo Con l'arco È nemico O siete voi No è Con l'arco Sono io Mecca Allora mecca Sta allocciando qua sotto Scusate Edo È Mario Ti ho detto che sono con gli utenti Mario è forte Perché fa Perché campa Perché scappa Campera duro Scusa Io sono sempre su disco È la mia vendetta Adesso vado col popolo Vedi Siamo lì a fare tutto Ma spera Spera Adesso stiamo organizzando blocchi di cooperative su Dark Souls Per esempio Blocchi di cooperative su Dark Souls Sì È solo sto giocando tutto il tre con Enrico Fucking really Poi però volevo iniziare anche Poi dovevamo giocare anche l'uno con Alga Poi il tempo Adesso dove stiamo Ok 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 calma Non so chi Ma shut down Credo Mario Valedetta verde Vabbè ho preso entrambi Dovina Edo deve soffrirmi Doviamo a fare le squadre Era più facile Era questo Cosa c***o ho fatto? Perché sono lì sotto? Vabbè Oh nice Dai non rivieni qua Bastardo Yes Ma Mario scappa e basta Pregamente Mario è una tattica di Mario Mario è un merda Aspetta che si uccidano gli altri Sta fermo in un punto A spammare un attacco Ops Io non ho richiesto Mi sta venendo a cercare Chi elimina Chi era Il bot Zitto un pochino ti odio Io sto provando a prendere qualcuno A sette in mezzo Non è colpa mia E il codino a beccare E lo debole è la tua iniziativa No ci sono Mario per sbaglio Ops Oh per sbaglio Ma io ero con l'oro Cioè non è che Vai Mario Io ti covario Ma c'è una tica Tu cazzo Lo sappiamo Ma abbiamo capito all'inizio Dai Mario Dai Mario Ce la puoi fare Tanto Mario prima o poi mecca tradisce uno degli altri Quindi ti covario Aspetta quel momento Perché ce l'hai con me? Cosa c'entro io? Sali Non faccio niente Stavi su una paese Zitto salvato Delle armi Norry Zitto porta I suoi saluti Porca No Dai Mario Non mi morire Zitto Dai Mario Non fare la più ghia Mario Mario Piuttosto infama Ma tira fuori le lame Grande No hai il momento sbagliato Per cominciare Mario fagli vedere Chiedi Napoli E vinci infamano Dai il momento sbagliato Gli fagli vedere che si Miniponi Vola Esatto Vai Mario Faccio tutte le armi Zitto Mario hai più vita Non ho più vita Hai più vita Mario I tried Lanciali tutto Lanciali anche la sorella Per il popolo Mario Se lo lanci per aria Non torna Non cade per te Vai minchia ci bala Anche la capoe Lanciali il cazzo Che non torna indietro Fa anche il tont Su Zitto Mario Per dire Bella Ora sta facendo La modalità Zitto fastidioso Quando ti sta lontanissimo E ti lancia E ti provoca Ti fa Ti lancia l'armettina Palo Nel frattempo Ma pensate che anche Mario Cos'è che io non lo faccio mai Ste cose Cioè non sono buono A lanciare l'armettina No ma in generale Tipo E la vittoria va al popolo Mario è il nuovo primo da uccidere Quindi tutti tranne Mario adesso Quindi dobbiamo uccidere Mario viene bannato dalla stanza Decisione Chi posso scegliere? Io ne ho comprati due No dai Vi voglio bene Vi voglio bene Ban Ok dopo È stato il bacio d'addio Bregamente Esatto No non è capito No dai Non è capito Movimento dal basso Sir Sbroland Sbroland Sir Broland Non ho idea di cosa sia questa cosa Ma la facciamo Cos'è? Strikeout? Ah che hai tre personaggi diversi No non lo volevo Ma no Fai entrare Mario Fallo entrare Fallo entrare Primo nebisco Se qualcun altro vuole entrare Ci sono otto posti Vai Mario Vai vai Devo dire che Nel momento in cui stai fermo a camperare Di nuovo ti banno È molto fascista questa cosa Zetto Fatelo dire Sì Ne sono conosci Sappiro Koji Mario bannato per infinita scorrettezza Esatto Non sapete perdere Piuttosto che infame Indie benghino Esatto Piuttosto che un indie benghino infame Sono un indie benghino Bastardo Ma ci sono anche dei Dei teschi C'è anche della roba strana Tra l'altro Eh sì C'è un sacco anche di modalità Personaggi nuovi 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 A scuola abbiamo fatto un'altra volta Anche ve lo ricordo Questa qualche Ne elimini uno Ne parte un altro Ma Mario non scappa Si va bene fatto No prima scappava Fio lì Ma avete capito La crew in di benghino Che cazzo sono tra l'altro Che cazzo No seri Ah sono brian Mario chi sei che non ti vorrei attaccare Ragazzi non ho idea di chi sei Questo qua secondo me è la prima frase È la prima frase prima del tradimento Che si può mettere Ma è vero Ma hai rotto il cazzo Chiunque tu sia Che non mi lascia Ok sono io Ok ok Andiamoci in culo Andiamoci in culo Vai E colpisci ma ti odio me Eh ma non volevo Non era mia intenzione Io non so dove sono Ok Vai Mario qualizziamoci su Mac Ficchio tutte due Lo sapete che con me non funzionano ste cose Perché poi mi incazzo e comincio a diventare Gesù Cristo di ogni videogioco No Mac fidati Non sei Campione mondiale di picchiaduro No Mac non si No non importa Però intanto Un'uccisione l'ho già fatta così Nel frattempo Sì a me E due Ok E lo so Se mi viene a provocare Mi viene a provoca Stavo venendo Intanto ho ucciso Mario Così nel frattempo Cosa è quella Un'arma Sì È un'arma Madonna Edo che caga coglioni Oh ma cosa cazzo vuoi Sei sempre qua A cercare rogne Sai è un po' lo scopo del gioco Cercare rogne Edux cerca rogne Non è che Edux cerca rogne Che è lo scopo del gioco Menarsi È un nuovo hashtag Scusa Z Chi siete qua Ah Rob Chi sei Tranquillo BOOM Lanciatene Tranquillo BAM Scusa Larry Ok No dai Scusa Non è quello Mac Eh sì Fai dalla mia Palone Ah perché Sir Roland Non può andare in verticale Mai Nella vita Proprio Non gli è proprio possibile No Chi sei Ok sei te Capisco Questa piattaforma è mia Venite me la prende No aspetta chi sei Mario Ciao Cattroia, cattroia Mario Tutto il ciocco Rattum No io Porca la merda Via No Lasciatemi in pace No ma salto Chiunque sia quel blu con una bomba Lasciatemi in pace Chi è bussang? Ma minchia Amari mi hai buttato fuori su un pezzo di merda No mi stai lasciando raga Ah sei tu ho detto Gente che rischia di cadere C'è che si è suicidato duro così Infatti vedevo dicevo Non vedo più mi scatta Mary Ronald Si Ti sei lanciato sulla mina volante Eh non lo so non ho visto Ammazzate Mario Tutti insomma Subito No No mi chiedo non la so usare la lancia Però cazzo cazzo Iia Mario rotti i coglioni però su di me Porca troia Vai Mario Saremmi squadre insieme Più o meno Non mi pare No Non siete squadre insieme Vabbè se li tradisce una patria Se li tradisce C'era un patto non scritto Pi 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 uuuu Andiamo da Mario scusa Non ho capito Ma perché stiamo mancando Sono andato solo io Ho preso tante di quelle legnate Che me le ricordo Scusate Non lo so Non so neanche se mi hai colpito Non vedo Si è trovato una sparata Dalle gengive Ah di nuovo Mario Mi scatta male Stang Ho preso Mario di ritorno No Si Mario ha due vite Sì infatti Vorrei far notare Mario è mezzo morto Ma ha due vite Uuuu Io sono morto Ma almeno L'ho depennato Cioccorato Uuu Mamma mia Ho rischiato tantissimo Iiii Ciao Iii Oh no Questo non lo so usare mai Porca troia Chi è che è volato nella ionosfera All'improvviso Zetto Mamma mia Ho visto uno zetto volare Quindi siamo tipo Due contro uno di nuovo Devo eliminare il più scarso Allora vabbè Ci proviamo Nel senso Facciamo il possibile Sai vero che te ne penti poi Facciamo il possibile Perché devi eliminare il più scarso Eh sono da solo Perché in due contro uno col più forte è un po' un problema In uno contro uno col più forte è già un po' medio Oh tradimento Tradimento No è che lui prima mi ha corcato metà partita Non è che Ah ecco Come hai fatto a mancarlo Non è vero In realtà non L'anima ha preso Che io almeno Me la preso in pieno Anche infatti anche da me No da me no Ho evitato Oh porca Poi sai che duriamo due minuti e tredici E non mi toccate una volta Scappo tutta la partita Ah ma hai preso Invece Invece ma hai preso Mi toccate una volta Boom Preso Ciao E adesso Il finale di Double Dragon No Vabbè è vero che lui è la mossa figa Il finale Emozionante No Pessima idea Stardo Cioè scusi ti voglio bene No mi stai sul culo Succa Siamo arrivati fino alla fine Ha vinto il team popolo Io sono contento Il team popolo Ma che cazzo dice Sì abbiamo vinto io Mario e Rob Team popolo Fare lo suicidio alla Hunger Games Adesso diceva No mi è entrato le due tastiera Me lo butti fuori per favore Eh si vanno le due tastiera Grazie Mi dicono che tipo sol o alas Si vogliono unire Si vogliono unire Posso un'entrare Non capisco Ah ormai sono ufficiamente Il popolo Giusto che Zetto laggava prima Diceva Beach Brawl Ma metti Facciamo Blue 52 Scusa È il momento È il momento di Blue 52 Dove è? Però non ho Beach Brawl Che non si era davvero mai trovato Sì è quello che ti devi fare gol Che ti lanci le bombe fortissime con la pallola No Quello è Bombscatball Allora Beach Brawl è quello che tipo Devi lanciarti la palla in cao In porta Una roba del genere Il numero a distanza No è entrato Ha entrato ala Cioccolato Io no Non riesco a capire dove sia comunque Dov'è? Ah i colori 93272 Al centro Sì al centro e in cima Però siamo dispari Ala ha scelto il team giusto Facciamo noi Noi contro di loro In inferiorità numerica Voi contro di noi Infatti tu non sei nel nostro gruppo Infatti io sono Guarda ribadisco Piuttosto in di benghino Che infame pro Che infame Ho entrato a Wii Super Bella Esigo ala però io in squadra No sai No no ala ha scelto No ala è guarda che Si può willy Si può Si può willy sotto Ala ha l'alternativa Poteva scegliere E ha scelto no Non puoi scegliere Te lo dà quando entri Il team Poteva scegliere E ha scelto noi Non puoi scegliere bastardo Ha scelto noi Non hai scelto un cazzo Non devi andare a dormire tu per il terzo segmento No Ho scritto Dove entra a letto C'è provato C'è provato Infame ma le Puppa Minchia vi protegge il fatto di essere conduttori Tipo Vai willy Scegli Scemo Scegli willy Scegli Vedi anche l'ala ha scritto Io non ho scelto Comunque Vuol dire che Vuol dire che vuoi scegliere Il mondo di edux Vuoi scegliere la mente di edux No dai c'eravamo chi è che ha mollato Chi è che si è tolto Mario 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 Perché ha Mario e d'oro Perché fighello Perché Mario è fiammico Cazzo sono io Ok Trovate ha bombe quindi si devono prendere ha bombe d'acqua ah no giusto devi tirare le bombe d'acqua in modo che le palle entri fa entrare la palla io mi metto in porta faccio il portiero io sono in porta ma non sono bueno è impossibile fare il portiere in questo gioco più tira gavettoni a caso io lancio ho fatto due gol finora tre gol per dire quindi sono contento ho zero anch'io il tuo uno salvatore io dove sono in porta mi sono perso a un certo punto ho perso il controllo no questo è entrato ci ho provato è un randommico in porta ma ero in porta dall'altra parte e questo parata questa meno ma va bene comunque questa meno orca troia orgissima 92 è un po' cazzo di cane l'avevo salvata avevi passato avevo fatto un salvataggio che manco veramente salvata neanche un salvataggio cazzo di po' dove sono mi sono riperso ma quella l'ho presa sta ferma quella l'ho presa l'avevo colpita sono il peggior portiere che il mondo aveva visto ma non è vero dai qualcuno ne hai salvata ragazzi non potete lasciare guarda un po' quanto ne stai salvando guarda un po' guarda un gol perché alcune entriano proprio brutte cioè pipipiu un po' tristezza per alcune pipipiu io sono un po' troppo vicino alla porta ecco no eh dai che siamo in vantaggio tieniti il vantaggio e andiamo ho evitato una palla all'ultimo l'abbiamo portata di classe a casa 11 gol l'abbiamo portata di classe spettacolo 1-2 gol comunque fa cagare questa modalità cambiamo è da merda posso dirlo è quello che ti devi spaccare con le granate anche volendo uno o l'altro o blu 52 mode oppure va bene ne abbiamo entrambi o il bombasketball mister bombasketball mi piace mi piace siete pronti mi metto in modalità quarterback fenomeno oh christian quanto tempo tantissimo tempo ciao bentornato ciao christian ciao christian dove hai lasciato edge a quest'ora non ce la posso fare ma io a qualsiasi ora tendo a non potercela fare però vabbè willy super willy scelghi di che io tratto bene mi chiedi vegan bizzo io li chiamo cuccioli se non mi chiamasse cucciolo mi offenderai un po' non apprezzi l'affetto io dove sono ok ci sono l'effetto è aver preso ser roland che non è proprio qua non è velocissimo quindi il demone della velocità non è l'identità lanciata via che cazzo sono i quattro cazzo will no ciao ci servono è troppo cazzo sono che tu perso palla corri sorry for party rocking comunque ok vai vai più 52 vai lanciatevi tutti avanti no ho sbagliato il lancio scusate ok arrivo arrivo vai volante quasi mamma mia allora prendere l'ho presa io che orgione perché sei è glicciato sei è glicciata ok hai recuperato via no ah no è un casino via via no non ci capisco un cazzo ok via tutti avanti 2.52 lanciate la palla vai no mi manchi così alla non sapevo neanche no sono io eri tu non sapevo neanche di essere lì minchia era perfetto nella cosa era proprio l'ho lanciata precisa nella zona di meta no qua è mia via tutti dietro via lancio no ho porto peccato la nostra squadra che in tre l'ha mancata mi sembra un po via di nuovo no ciao ci sono no ci sono ci sono abbiamo apprezzato impegno l'idea no così a quanto si dovrebbe arrivare in totale a 17 minuti e 51 secondi se no a 5 chi è il gatto che è una pippe e lo mangiamo a casa Mario 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 madonna mario mi crede è impossibile no voglio chi sono ah siamo due uguali ma delle armi che c'è frega in questo gioco in questa modalità perché se fai difensore conviene avverarmi esatto però neanche tantissimo ma da lei non la passa via via no mia la voglio devo lanciarla fortissimo via corri vai ehi che dove va la parola via butta via lancia lontanità chiate come ferrite non me ne frega un cazzo del lazzo ok corri corri come se non ci fosse un dopodomani neanche un domani io ce l'ho provato metà di norri no metà di ala io sono in difesa mi piace il gioco difensivo io sto a difendere e rilanciare è un po' come nel calcio palladunga tutti avanti potevo recuperarla potevo potevo tu fai il picchiatore io faccio il quarterback così almeno siamo siamo bilanciati siamo una bella squadra cosa cazzo ha il pallone e tutto un certo e quindi diventa uno stupro vai che l'hai distrutto no la pensione pesante e via 2-0 alla prende la palla e la tira in faccia da bersaglia fa culo gridando fa culo buonanotte serpettegio tutti con la spada buonanotte buonanotte servente serpente o sergente serpentegio no ok pronti tutti siete pronti chi è che ha fatto volare roba ok pronti tutti via dai ci sono vola vai vola ma è un po' lungo è un po' lungo bello troppo fate un po' prendere la mano qualcuno vuole prendere la boccia ok perfetto dicevo ma nessuno vuole prendere la boccia vediamo tutte le armi non ho armi non ho armi come non avete armi siete in difesa e non ci sono più no in realtà ho appena lanciato perché lascia via avanti tutti avanti l'eccia non c'è nessuno davanti perché perché io stavo volando per te era anche un bel lancillo io ero un attimo morto era anche un bel lancillo maledizione oh oh dai 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 vai vai no intercettata no intercettata come ha fatto scusa eh la puoi prendere al volo come prende al volo gli altri prende al volo la boccia normale ok mi ha rubato la palla ho la maxi la sono pronto no nel caso sono pronto era fatta per lo di sta vieni vieni ti aspetto ti aspetto per impossessarmi della boccia e lanciarla forte forte nei denti all'avversario tra l'altro non so perché no 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 dai 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 pronti che ti ufficialmente lo 52 è indie bank contro i benghini vai vai no no lungo 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 perché ti fermi lì eh lungo incontro lì era dove andare vabbè ma deve andare lungo era geologica cioè se lo dice uno che di cose lunghe se ne intende esatto 92 però un concetto di lungo un po' diverso da noi bella mi piaciuto ma bella a tutti io sono un po' bella bella a tutti io sono edux perda buongiorno buongiorno addio ma cos'è una rissone qua cosa è successo bella 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 bg aspetto qua sul pillone vi aspetto vi ecce vi ecce che ti aspetto sul pillone voglio fare blu 52 voglio dai blu 52 no no vai no ok non so neanche cosa ho fatto ma ce l'ho io dai dinci 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 l'ho sentito io anch'io l'ho sentito tantissimo dai vai 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 no bisogna far dai facciamo un riverso blu 52 riverso blu 52 vai tu lanci tu e io la prendo no ho mancato io io l'ho mancato dai riverso blu 52 vai che cazzo vai 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 sono lanciatissimo no non tanto il giusto è lanciatissima la palla peccato mi hanno intercettato che cazzo è dai vai ora che sono tutti di dietro inoffesa 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 non sulla non sulla ah aspetta arrivo no cosa hai intercettato troppo presto no eh ma hanno spinto via ma hanno spinto via no no a quanto si arriva scusate a quanto si arriva scusate che delusione cioè è stata una grossa carenza di blu 52 ma non serve cioè una volta che ma come? beh lì è funzionato tantissimo abbiamo fatto due mete con la blu 52 non in questa partita sì in questa partita qualcuno prende il quadro il quarto stato e ci photoshop la faccia mia di mario e di ala ma poi bisogna giocare per lo spettacolo non capisci no la nostra è una rivoluzione dal basso non avrete capito sei proprio populista la blu 52 è lo spettacolo bisogna dire che stiamo dicendo che anche noi possiamo vincere capito è diverso ma stiamo facendo un'altra partita o mostrano mostrano di 3,47 fate voi io direi disegni mostrano i disegni disegni va bene sì che le sono la sveglia del 6 e mezza che mi sta guardando sfigato o la cosa dei 100 plato plof quindi per chi mi sta seguendo su youtube la live finisce qua vi consiglio di andare su twitch.tv slash glitcher uguale per chi mi sta seguendo su twitch però comunque osterò glitcher quindi volendo potete vedere comunque la mia prospettiva senza cambiare il link ci vediamo speravo ci vediamo alla prossima ciao belli stesso discorso però non posso stare quindi andate da me nel link che c'è in descrizione vai sono tipo 5 o 6 sti cazzi va bene just on him perché c'è proprio un profilo just on him li vengo proprio deciso vi prego qualcuno photoshop il team popolo su questo qua come si era di me c'è non hai mai usato il doja ah si io neanche tipo ah beh non vabbè non mi avrebbe cambiato molto eh vedi pipì sto scaricandoli prima a tutti ma forse è meglio di no non lo so adesso ci penso scarico ancora questo e poi ci penso allora nel contempo allora tanto il risultato della Houston Indie Bank che è imbattuta nel campionato di 69 ma strata 69 nel frattempo e poi e poi poi Edoarda con l'Alabarda che bello di Alexandra che si è che fa il debutto se ci passi anche la foto originale sotto banco te ne siamo grati ma povera Alexandra ma non di lei di quella causata per il fotomontaggio no appunto ma non è carino chiedere la foto di una di qualcuno frae ma non è lei vabbè ho capito ma non chiedi a una donna la foto di una donna non è carino cioè nel senso cioè è offensivo scusa stai facendo vabbè poi andiamo a rivedere cosa passi dagli instagram no ho detto ad una donna la foto di una donna non ad un uomo la foto di una donna non vuole ascoltare ragazzo non capisce non capisce non capisce ho detto ad una donna la foto di una donna ti va fuori proprio le parole un movimento dal basso il finto buonismo ma è buonismo tutto dal pezzo ora dice social justice warrior così lo spara andrà come su su cards against humanity l'altra volta che si sentiva buono nell'anima ma non capisce non capisce chrome ha deciso di non apersi più nel mio compito 110 is the way di willy super però un attimo ok arrivo ok poi 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 finiamo di scaricare anche questi che sembra zetto photoshopato in quella foto continua a dire si un pochino sembra zetto con i capelli sembra con tutto a rispetto ovviamente certo ok perfetto ci siamo poi plata o plomo si no ma la cosa dei cento cioè notare la finezza tecnica nei 110 cioè come ha scelto di rappresentare il 110 donk e lì la proprio adesso lo facciamo vedere il tocco di genio platto o plomo e questo è di donkey un'analisi cioè proprio tac tac e lì e poi 110 i fiori di ala e lì 110 i fiori andate perché sto facendo uno scusso gli scrolli interessanti ok leggete cosa c'è scritto che non ci lega un cazzo così né così piccolo intanto nel frattempo mac da vecchio non ci vedo un cazzo con tutta sta polvere con sti cazzo di numeri sulla faccia e poi lo sapete che sono anche allergico alla polvere che cazzo ha fatto vendere cocaina io volevo fare il fioraio e poi io da vecchio con lo stronzo che vibra col vibratore ma io io non credo però se non eseguivo avas coach avas io perdono chrome come amministratore non è andata ma intanto metto in primo piano di nuovo bear anzi no in fondo ci stava era carino cosa che sbucava la faccia facciamo molto più ridere ok la teniamo così sul retro ok quindi bene per la puntata di oggi 26 settembre la puntata numero 110 è tutto pimpatevi il canale Violenti dai prima prima Z vai bene ciao sono ZikaZ e faccio giochi di ruolo di solito GDR sto per finire la serie su End of Fate finalmente domani sera dalle 9 faccio la live forse l'ultima probabilmente perché muore di vecchia il personaggio su Sid Meier Pirates mentre per Pathfinder non lo so ci stiamo organizzando vediamo dovremmo in teoria giocare giovedì o venerdì vi facciamo sapere Nari ciao a tutti sono Noratus Games principalmente tratto sui miei canali youtube videogiochi indipendenti ho una particolare attenzione per i roguelike e poi ho una passione che sto portando con qualche video in generale sugli MMO sto portando un po' di titoli tra i più famosi poi magari ci butteremo anche tra quelli più trash del nostro passato e niente mi trovate su youtube sotto il nome Noratus Games tipo Metin esatto per lì aspettiamo tutti i video ci sta vi dico solo che l'altro giorno l'ho reinstallato fa male mio dio fa malissimo fa malissimo sono entrati un server e c'erano tre persone che disastro tocca a me pimpare il canale io sono io sono la comune di Edux che da oggi poi sarà un canale aperto a tutti voi voi potrete caricare i vostri contenuti perché noi siamo diventati un gruppo comunitario siamo diventati una comunità di indie benghini che diventeranno il nuovo indie vengono rovesciando il potere e tratto giochi indipendenti con un'impronta sociale invece che roba fascista che fanno come fanno loro tipo obliti tu fai il lavoratore schiavizzato in Job Simulator ti rendi lo impersoni bastardo così come l'altro che fa giochi sociali impegnati sono andato a vedere il canale e ho detto ah sì giusto così come l'altro che fa quello della stazione sei un polizio fa fattis ma no niente rivoluzione poi quando fai uscire i video dei giochi sociali me lo fai sapere no è proprio l'idea di base di fare roba non antisociale se siete interessati in giochi sociali guardate non antisociale non è doppia negazione scusa si infatti no non ho detto non antisociale l'hai detto l'hai detto però non lo hanno capito però non l'ho pensato allora non diciamo doppia negazione va bene ciao quindi va bene per il momento è veramente tutto quindi grazie ai nuovi iscritti grazie ai presenti grazie ai mod che ci hanno fatto come al solito il grosso favore di calmare quei malati di mente che erano presenti nella live di oggi e direi che esattamente 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 e detto questo quindi è veramente tutto noi ci vediamo domani con Zetto che fa Pirates sempre giusto? si ok poi mercoledì con Edux che fa Alien Isolation no Alien Comun Isolation facciamo Comun Isolation giovedì c'è la live di forse di Pathfinder venerdì dovremmo registrare qualcosa noi venerdì è beverdì non si sa che cosa no ma è che sì noi in teoria potremmo intanto non dobbiamo non possiamo non possiamo metterlo subito quindi eh sabato gnocchi no non c'è niente sabato non c'è un cazzo tutti a casa tutti a farsi le canne ok domenica ci sono io che inizio freedom force freedom force sì ora madonna e la anche io dovete parlare più forte non vi sento e poi sei mesi che aspetto e poi basta bombastic bombastic detto questo è tutto veramente quindi vi lascio all'outro finale solito comunque non faccio giochi non sociali era giusto era giusto anche non faccio giochi ma perché sto proponendo un qualcosa che va oltre il mero gameplay io non sto solo a scrivere ti vedrò dall'alto dei non meri gameplay dei non meri gameplay mi è piaciuta la città va bene buonanotte è stato divertente giocare in allegria c'è un solo inconveniente che il tempo vola via addio addio amici addio noi ci dobbiamo lasciare ma ehi io dico che è ok io non vedo l'ora di tornare voglio ritornare addio addio amici addio ma venite domani da noi la luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi qui con voi qui con voi ciao ciao luna ciao ciao